. Ascolti TV 26 marzo 2018, l'addio straziante a Fabrizio Frizzi . Gli ascolti TV della giornata di ieri, lunedì 26 marzo, è stata caratterizzata dall'ultimo addio a cancelletto Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati della televisione italiana, venuto a mancare all'età di 60 anni. . Un addio straziante quello di Fabrizio Frizzi che ci ha lasciati tutti senza parole e che ancora oggi ci fa commuovere tantissimo. . Ieri tutti i programmi del Daytime di Rai 1 sono stati dedicati al ricordo di Fabrizio Frizzi e molte delle trasmissioni in onda anche sulle reti Mediaset sono state sospese in segno di rispetto. . . L'addio a Fabrizio Frizzi ferma l'Italia, gli ascolti del 26 marzo nel dettaglio in Daytime si è avuto un boom pazzesco di ascolti per tutte le trasmissioni in onda sulle reti Rai, l'Italia intera si è fermata davanti alla TV, incredula, dopo la terribile notizia della morte di Fabrizio Frizzi. . 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